benvenuti benvenuti a questo schifo di risultato cioè parma sampdoria 0 0 schifo che ci è andata anche bene perché potevamo anche perderla però schifo che mi aspettavo e l'avevo detto quando è finita la partita di cantazzaro 5 0 l'altra volta dicendo che non volevo che questi ragazzi si illudessero per questo risultato e che quindi adesso si sentissero super appagati si sentissero già campioni e già in serie a in più in più quando ho visto oggi la formazione durante la mago cronaca la formazione del parma già avevo detto aia osorio in campo e lì vabbè poi ho detto aia era nani titolare del primo minuto e due indizi fanno una prova poi il terzo di catanzaro vince a 5 a 0 tre indizi fanno una certezza la certezza che il parma non avrebbe fatto un gran risultato in casa contro la samp partita 18 minuti di nulla cosmico dopodiché è arrivato il gol di pedrola il gol di pedrola in contropiede dove praticamente osorio si dimentica che deve chiudere lui da una certa parte dove sta arrivando l'attacco della sampdoria in contropiede netto e quindi culibali deve andare per forza ad aiutarlo e alla fine scoprire la sua zona di competenza dall'altra parte non c'è giustamente nessuno a sto punto è colpa tua colpa mia finisce che becchiamo gol di pedrola dopodiché abbiamo al 25esimo bene il parma comincia la serie di sfighe perché ovviamente già ci mettiamo del nostro grazie a quel signore qui ci mettiamo del suo ecco dopodiché ci troviamo che benedict al 25esimo tira una mina da dentro l'area di rigore al volo botta sicura boom sul secondo palo il portiere stankovic della della sampdoria diventa superman e riesce a fare una parata bellissima e quindi niente un'occasione gettata poi abbiamo ernani al 27esimo sulla sinistra butta dentro l'unica cosa giusta della sua partita fatto l'unica butta un bel pallone in mezzo all'area di rigore dove culibali sul secondo palo si trova da solo come un cane e cosa fa ovviamente ci da guarda basta tirarla dritta e centri la porta a fil di palo col portiere chiaramente che non poteva farci niente e invece no e no devo deviarla per metterla chissà dove angolata risultato che invece che tirarla dritto per dritto la tira angolata tre metri fuori dalla porta da un passo quindi niente buttiamo l'ortiche il nostro altra occasione quindi sono già due dopodiché buttiamo via siamo due buttiamo via la terza occasione quando al 39esimo sempre del primo tempo appunto Iepes decide di passare il pallone in area a Somme Somme purtroppo che di solito ha fatto sempre bene fino adesso qua fa una cazzata perché invece che controllarla perché era da solo come un cane controllarla poi piazzava tipo rigore due metri dietro il dischetto del rigore zona defilata un po sulla sinistra cosa fa tira di prima come se gli avesse fatto un assito un compagno ma ma non aveva senso perché comunque era da solo tira di prima e la sbatte fuori dal tipo dal dischetto poco dietro e quindi terza occasione buttata le ortiche e arriviamo secondo tempo secondo tempo dove Bernabè con un velo di Gernani da fuori area può andare al tiro tiro che però è abbastanza forte ma è proprio addosso il portiere che non può far altro che pararla metterla come quarta occasione da gol no però era solo appena fuori dall'area diciamo tre e mezzo vabbè poi settantunesimo Partipilo è lanciato da Cicizzola dunque Cicizzola rinvia lunghissimo la palla arriva a Partipilo che si ritrova davanti al portiere che è in fase di uscita proprio al limite dell'area Partipilo lo anticipa per fargli il pallonetto e far gol con un pallonetto ma da poca forza il pallone o più che altro la tira proprio troppo bassa quindi il portiere alza la manina così e intercetta con un saltino e quindi quarta occasione più mezzo fanno quattro e mezzo buttata nel cesso in tutto questo ho dimenticato un'azione che è la quinta occasione da gol netta quindi che butta nel cesso Cercati che è servito da un compagno non so dirvi non mi ricordo chi credo Zagaridis che lo trova in mezzo all'area ok da solo praticamente come un cane cosa fa anche lui la butta boom tieni tra le braccia del portiere un tiro invece che angolarla la tira diciamo in braccio del portiere finalmente arriviamo al momento del riscatto di Cercati perché dopo aver sbagliato quel gol lì all'ottantatresimo su cross perfetto perfetto di Ansaldi Ansaldi la mette pericolosissima in mezzo all'area dalla destra butta dentro e Cercati riesce a spizzarla deviandola all'angolino di testa quindi grandissimo gol si fa perdonare l'errore incredibile del primo tempo e quindi il Parma va al pareggio quindi finisce così Parma Sam perché non succede nient'altro di nulla anche perché praticamente la Sampdoria fa una melina totale almeno 4 5 6 volte con i giocatori che appena vengono sfiorati rimangono a terra come se avessero ricevuto una scura in testa e quindi praticamente la partita finisce così con 10 minuti persi a terra dalla Sampdoria sicuramente eccetera recupero che invece ne dura 5 e finisce 1 a 1 consideriamo che poteva finire anche 1 a 0 per la Sampdoria inizionata anche bene facciamo un punticino che comunque per la classifica serve e come però è un peccato perché ragazzi la Sampdoria sedicesimo in classifica sono punti buttati nel cesso cioè questi qua sono due punti persi perché noi siamo primi loro sono sedicesimi sinceramente oggi c'era da vincere e diciamo che abbiamo cosa abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato che allora innanzitutto noi abbiamo il nostro errore più grave è stato sbagliare 5 gol e mezzo perché questo è perché 5 azioni nettissime e mezzo da gol sbagliate tutte è un bel record però l'errore principale è questo qua allora ascolta perché mi sa che mi sa che non ci siamo mica capiti molto allora Ernani 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 Er Ernani Brasileiro che gioca nel Parma presente quello che fai entrare no? dal primo minuto quello lì non deve giocare praticamente mai se no vuol dire che gli altri devono essere squalificati morti distrutti quello che vuoi ecco allora Ernani non deve giocare più dal primo minuto io te l'avevo già detto te lo ripeto ancora è come giocare in 10 e mezzo 10 secondo di come è in forma ok poi altra cosa Osorio ok abbiamo capito che per te è come Baresi, Cannavaro, Turam però cerca di capire che Osorio è Osorio e infatti la cazzata ti ha fatto beccare il gol il gol 1-0 è colpa di Osorio non darai mica la colpa a Koulibaly per piacere capito? non è colpa di Koulibaly perché quello lì è generoso cosa ha fatto? ha detto guarda c'è uno che non coppa che non chiude non c'è nessuno di là devo andarlo aiutando questo qua non so neanche dov'è e quindi poi alla fine è in 30 contro 1 c'è poco da fare la cazzata da farla te farla io ma alla fine la cazzata iniziale di Osorio dopodiché ci va dietro anche Koulibaly ma per buona volontà ok quindi Osorio deve giocare meno Ernani fammi il piacere di farlo entrare nel secondo tempo o a partita acquisita e devi far giocare camera camera che non l'ho più visto ma camera deve giocare camera 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 ok ecco altra cosa questo qui no perché magari questo qua lo riconosci si chiama un nome un po' strano come cognome sia come nome che come cognome però si chiama Begic gioca nel Parma e ti ha salvato il culo più di una volta ha fatto dei gran numeri ci ha fatto vincere delle partite eh? ti lo ricordi quanti punti ti ha fatto fare quel ragazzo qua? cosa è successo perché non le fai giocare? me lo fai capire perché non ha giocato? non lo so magari è squalificato me la sono persa io eh non lo so io so solo che quel ragazzo qua doveva giocare non ha giocato un minuto ok? camera non ha giocato e ha fatto giocare con la mezza pipa di Ernani e il risultato è questo qua il risultato è che abbiamo perso praticamente è come aver perso perché ha fatto un pareggio con la Sampdora è come aver perso eh? anche perché voglio dire Bernabè non è in forma si vede fai giocare camera allora fai giocare camera con quel ragazzo qua ed è fatta no? e tieni giù Osorio boh vabbè comunque ti saluto guarda anche stavolta fai cazzamica poco ciao ciao e niente detta questa basta cos'altro c'è da dire? c'è da dire che abbiamo perso allora per gli errori perché cinque errori eh cinque errori e mezzo eh non c'è occasioni non tramutate in gol è veramente buttare via i gol e poi grazie alle sette di pecchia che vi ho appena elencato e che purtroppo eh decide lui e se decide così io già prima di partire sapevo che c'è dovevo sperare nel miracolo eh ma la cosa peggiora non è Osorio a questo punto è Ernani cioè Ernani in campo non ci deve stare da alcun minuto ma come cazzo te lo devo dire ma è possibile che non lo vedi ma poi che cazzo ti ha fatto Camarà? cioè ma Camarà ti rendi conto che è uno dei migliori che c'hai in rosa? eh cerca di capirlo va che Camarà è uno dei migliori che c'hai in rosa come impegno come tecnica come tutto l'hai visto anche l'anno scorso eh l'hai visto come giocava Camarà che impegno ci metteva e che numeri eh e questo ragazzo qua eh te lo ricordi questo ragazzo qua? vabbè dai niente dai ragazzi vi saluto e c'è poco da scherzare questi sono mica scherzi sono realtà e quindi ci vediamo alla prossima partita e questa qua è andata male 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 non mi aspettavo mai di pareggiare con la sedicesima in classifica l'ho capito abbiamo voluto fare il regalo ai gemellati dei nostri gemelli Sampdoriani va bene allora è un regalo per la Sampdoria regaliamo un punto non due non tre per fortuna gli regaliamo un punto anche troppo va bene alla prossima occasione un saluto dal mago ciao Forza Parma Forza Parma